Gentili telespettatori, buona giornata. E così Floris ci prova ancora. Ci prova con Bersani, ci prova con Carlo Rossella. La sua teoria è questa, solo che lui non dice personalmente, non dà personalmente la risposta che lui ha già alla sua domanda. Lui cerca di far rispondere alla sua domanda, come vuole lui la risposta, sta cercando di farla dire agli ospiti. Ma non c'è ancora propriamente riuscita, anche se Carlo Rossella in qualche modo l'ha detto. Che cosa? Allora Floris tira fuori questo. Quando era arrivato questo governo abbiamo quasi tutti subito detto, la Meloni è un certo tipo di politico, mentre la sua classe dirigente non è alla sua altezza, è un'altra cosa, eccetera eccetera. Adesso Floris già da diverse puntate, anche da prima della pausa natalizia, insiste continuando a dire, beh abbiamo sempre detto che la Meloni è a un certo livello diverso dai suoi politici, mentre i suoi politici sono quel che sono. E Floris è diverse puntate che chiede, ma è davvero così? Davvero la Meloni è diversa dai suoi politici, è un politico di un certo livello? O invece sono tutti uguali? Lui fa la domanda, ma lui la risposta se l'è già data? Lui si è già risposto da solo, nella sua mente dice sono tutti uguali, non è che la Meloni è diversa e gli altri sono di un livello più basso. Abbiamo confuso la Meloni con un politico diverso dai suoi, un'altra cosa. Solo che lui non lo dice, perché non lo vuole dire, perché la tecnica sua è questa. Io penso una cosa, ho una risposta, invito delle persone alle quali chiedo e so che probabilmente, o la prima o la seconda volta risponderanno quello che io voglio sentirmi dire e risponderanno quella che è la mia teoria, che io come giornalista non dico, devo farla dire agli altri. Io devo porre la domanda e l'idea di Floris e indurre gli ospiti che ho chiamato io a rispondere esattamente quello che io voglio. È una tecnica, cioè non è Floris che attacca la Meloni dicendo la Meloni è uguale ai suoi, ma lo chiede e vuole che gli altri rispondano. E allora ci ha provato più di una volta. Per quanto riguarda Bersani, che è uno degli ospiti frequenti, non è cascato nel tranello di Floris e Floris ha chiesto ogni puntata la stessa cosa, ma la Meloni è diversa dai suoi o sono tutti uguali. E Bersani ci ha girato intorno e non ha risposto. Invece questa volta Carlo Rossella, che è molto più fazioso con dei preconcetti incredibili, ha detto che siamo sotto un regime, dunque figuratevi. Però se fossimo davvero sotto un regime Carlo Rossella non potrebbe dire queste cose in televisione e se fossimo davvero sotto un regime non esisterebbe il programma di Floris, non esisterebbe il programma della Gruber, non esisterebbe il programma di Parenzo, non esisterebbe il programma di Formigli. Se fosse davvero un regime non ci sarebbero i Carlo Rossella che dicono che è un regime, chiaro no? Quindi se Carlo Rossella può andare in televisione a dire che è un regime vuol dire che il regime non c'è. Però questa volta Carlo Rossella tentenna un attimino ma poi segue la domanda di Floris. Quindi Floris dice ma allora Rossella senta ma la Meloni è diversa dai suoi politici o no? Abbiamo sempre detto questo ma è davvero così? E lui dice beh questi politici li ha scelti la Meloni e se li ha scelti la Meloni la Meloni non può essere diversa da loro. Quindi ha trovato finalmente Floris chi ha risposto e ha detto quello che lui immagina, quello che lui voleva sentirsi dire. Questa come vi dicevo è una tecnica che ha preso Formigli in ritardo nel senso che Formigli con la sua trasmissione attaccava quelli di destra, li invitava, gli costruiva una trasmissione contro e poi non c'è più andato quasi nessuno nel suo programma. Formigli ultimamente ha cominciato ad avere un approccio diverso. Adesso imita Floris o perlomeno non so se imita Floris o ha capito che lui non deve essere l'attaccante, lui deve far attaccare gli altri, gli ospiti. Tu inviti una persona e cerchi di fargli dire quello che tu vorresti dire. Così anche Formigli ha questa tecnica oggi, solo che questa tecnica è arrivata in ritardo. Anche se lui oggi fa la persona trasversale, lui fa la domanda, lui non è che accusa, lui fa le domande agli ospiti e gli ospiti eventualmente accusano. Solo che questa sua tecnica è arrivata tardi alla sua trasmissione, non si presenta più quasi nessuno di centrodestra, di politici. Si arriva lì qualche giornalista, ma ormai la sua nuova tecnica non riesce più a convincere quelli che ormai hanno deciso di non andare più. Ma la tecnica del giornalista deve essere questa, sia a destra che a sinistra, deve essere quella. Io faccio le domande, invito degli ospiti e faccio parlare gli ospiti, lo faccio dire a loro. Sennò diventa un comizio di un giornalista che diventa l'alter ego politico dei vari avversari. Quindi non la trasmissione del giornalista avversario del politico, ma la trasmissione del giornalista, di sinistra o di destra, che fa le domande e si aspetta le risposte dagli ospiti. Cioè fa esporre gli ospiti e non si espone lui. Questa dovrebbe essere almeno la finta imparzialità del giornalista, perché poi sapete che il giornalista fa delle domande in un certo modo a certe persone perché sa che gli risponderanno come lui vuole. Non è facile, non è da tutti riuscire a condurre un programma e far dire le cose che tu vuoi dire agli altri. E non è propriamente semplicissimo. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.